Raggiungeva i 15.000 euro al mese il giro d'affari dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, struncato dall'operazione dei carabinieri della compagna di Lanciano. La banda di spacciatori era capeggiata da un collaboratore di giustizia campano, 43 anni, che cercava di esporsi il meno possibile e che per il suo status godeva di particolari tutele da parte dello Stato. L'operazione è stata denominata Doppio Gioco, proprio perché il capo, mafioso che vive in città sotto copertura e sotto falso nome e che è stato adesso arrestato, da un lato beneficiava delle protezioni e dall'altro gestiva lo spaccio, principalmente indirizzato alla clientela lancianese. Altre tre persone sono state arrestate assieme al pentito e dovranno ora rispondere a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti, un'altra persona indagata. Complessivamente l'attività investigativa ha portato a tre arresti, di cui due eseguiti nelle ultime ore e ha due segnalazioni alla magistratura, oltre al recupero di mezzo chilo di cocaina, pari a circa mille dosi. Grazie alle indagini scattate nel mese di febbraio, con pedinamenti e intercettazioni di dieci telefonini, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno definito il luogo di spaccio nei pressi di un locale della zona frentana. In quattro mesi, nonostante il periodo di lockdown, i militari hanno identificato circa 50 acquirenti e un volume d'affari di 15.000 euro mensili. Nell'abitazione del collaboratore di giustizia i carabinieri hanno anche scovato due bilancini di precisione, una katana giapponese affilatissima con lama di 27 centimetri e uno scanner per il rilevamento delle microspie.